buonasera allora riprendiamo il tema d'esame del 23 09 2016 altra volta abbiamo finito il primo punto dobbiamo prendere dove iniziare il secondo punto ricapitolando bisognava creare un grafo bipartito in cui si inserivano i nodi sia relativi agli studenti che i corsi e un arco collegava lo studente al corso se quello studente è riscritto a quel corso mi sembra che il grafo fosse non orientato e non pesato quindi un grafo abbastanza semplice nel punto 2 veniva chiesto di trovare la sequenza di corsi con quell'insieme di corsi minimo tale per cui il numero degli studenti raggiunti tali per cui questi corsi raggiungono tutti gli studenti perché perché si voleva perché il tema d'esame diceva il responsabile della didattica deve presentare tutti gli studenti un progetto innovativo facendo un breve intervento in aula quindi sviluppare un algoritmo ricorsivo per individuare quale sia l'insieme minimo di corsi tali per cui la comunicazione raggiunga tutti gli studenti che frequentano almeno un corso quindi vediamo dove eravamo arrivati la volta scorsa nel test model avevamo generato il grafo avevamo ottenuto le statistiche circa il numero di studenti che frequentano quanti corsi quindi avevamo trovato che nessuno studente frequenta frequenta 0 corsi quindi tutti quanti almeno frequentano un corso e in particolare quello più numeroso sono gli studenti che seguono 7 corsi con 164 studenti quindi il fatto che nessuno studente segua nessun corso quindi tutti gli studenti seguono almeno un corso ci risolve il primo problema del tema d'esame perché diceva trovare l'insieme minimo di corsi in modo tale che raggiunga tutti gli studenti che frequentano almeno un corso quindi questa frase possiamo ignorarla. Quello che ora dobbiamo domandarci è come fare a trovare questa sequenza di corsi questo insieme di corsi minimo che però permette di raggiungere tutti gli studenti. Allora proviamo a fare qualche disegnino e quindi mi sposto su questo. Allora immaginiamo di avere tre corsi A, B e C. In questo caso in questo particolare problema non sono interessato alle permutazioni ma tutti i possibili insiemi dati questi tre corsi quindi sono interessato ad A, A, B, A, B, C, A, C, B, B, mi sono dimenticato, e C. Quindi non sono interessato alle varie permutazioni perché tanto dato una sequenza indipendentemente dall'ordine con cui sono scelti i corsi il numero degli studenti non cambia ma sono interessato ad avere tutti i possibili sotto insiemi. Quindi come possiamo sviluppare un algoritmo ricorsivo in modo tale data, in modo tale che a partire da una sequenza di corsi sia possibile ottenere tutti i possibili sotto insiemi? Provando un attimo a pensarci vediamo che la ricorsione può esserci utile perché al primo passo della ricorsione scegliamo il primo corso, in questo caso scegliamo A. Poi al secondo passo scegliamo B e al terzo passo scegliamo C. Quando torniamo indietro da A scegliamo C, poi torniamo ancora indietro di un passo e passiamo a B. E da B poi possiamo scendere a C e come ultimo passo otteniamo C. Quindi vedete che le sequenze sono A, AB, ABC, AC, B, BC e C. Quindi sono tutte le sequenze che ci interessano. E qual è la proprietà di questo albero? Che cosa vedete di particolarmente interessante? Che sono ordinati, ossia non sia mai, non abbiamo mai un corso con, non abbiamo mai un insieme di corsi non ordinato, ossia C si trova sempre A in fondo perché è maggiore di B, B si trova sempre dopo A e al più possiamo avere dei corsi che compaiono singolarmente. Quindi se proviamo a pensare come implementare questa soluzione nel codice, ci rendiamo conto di quello che dobbiamo fare nel famoso for, nel famoso for in cui esploriamo tutte le soluzioni. Quello che dobbiamo fare è aggiungere un corso, aggiungo corso, solo se questo corso, l'ID del corso, l'ID corso è maggiore dell'ID nell'ultima posizione dei corsi inseriti, lo chiamo ID last. Quindi se qua ho la soluzione parziale con il mio AB, in questa terza posizione posso inserire soltanto C perché l'ID del corso, perché l'unico corso che ha ID maggiore di B è C. Quindi il trucchetto per ottenere la sequenza, per ottenere un insieme, tutti i possibili insiemi dei corsi a partire da una sequenza di corsi è proprio questo, ossia sfruttare la ricorsione ma evitare di creare l'albero completo della ricorsione perché non sarebbe utile, ci interessa semplicemente trovare tutti i possibili sotto insiemi e possiamo farlo utilizzando questo trucco del maggiore, quindi di aggiungere soltanto un corso, di aggiungere un elemento nella soluzione parziale soltanto se il suo identificativo è maggiore dell'ultimo elemento all'interno della soluzione parziale. Vi è chiaro? Avevate già provato a risolverlo così? Avete in mente soluzioni alternative? Ok. Quindi proponi generiamo un tutte le sequenze, però non guardiamo la sequenza, guardiamo il set e controlliamo se quel set l'abbiamo già visitato precedentemente. Sì, è una possibilità ovviamente, devi crearti una struttura dati per mantenere la lista, usata in un set di set. Così è molto più efficace sicuramente. È una possibile soluzione? Sei riuscito a implementarla così? Sì, però non lo so. Perfetto. Allora, sì, in generale anche in questo caso impiega qualche secondo, mi sembra che sia di ordine 5-6 secondi la soluzione. Non è velocissimo, dipende anche ovviamente dal numero dei dati. Il vantaggio di usare questo approccio dove si dà un ordinamento agli elementi è quello di limitare proprio al minimo l'esplorazione dell'albero della ricorsione. Ci sono altre domande? Osservazioni? Ok, quindi possiamo vedere come implementarlo. Quindi, ripartiamo dal model dove eravamo rimasti l'ultima volta. Quello che dobbiamo fare è adesso aggiungere un metodo per trovare la sequenza minima di corsi. Quindi, list, corso, find, minimal set. Quindi, all'interno, siccome quello che voglio fare è utilizzare una soluzione ricorsiva, di sicuro avrò bisogno di una struttura dati per tenere traccia della soluzione parziale e una struttura dati per tenere traccia della migliore soluzione trovata. Queste due strutture dati potrebbero essere benissimo due liste, quindi creo due liste di corsi che chiamo soluzione parziale. possono essere due array liste e un'altra che invece chiamo soluzione migliore. e alla fine, ovviamente, della funzione ritorno la soluzione migliore. Al centro devo chiamare la funzione ricorsiva. Questa funzione ricorsiva accetta di sicuro due parametri, che sono la soluzione parziale e la soluzione migliore. A differenza delle altre volte, direi che non è necessario utilizzare una variabile che indica il passo, lo step. Perché qual è la condizione di terminazione? Quando è che l'algoritmo ricorsivo termina? Termina quando ha finito di generare tutte le possibili sequenze ordinate. Quindi, diciamo che termina in automatico, da solo. Non c'è bisogno di esplicitare una condizione di terminazione. Perché è proprio intrinseco, la condizione di terminazione è proprio intrinseca nel modo in cui abbiamo progettato l'algoritmo. Cioè, nel momento in cui abbiamo esplorato tutte le possibili sequenze ordinate, termina. Quindi direi che possiamo utilizzare due soli variabili, che sono la soluzione parziale e la soluzione migliore. Quindi, creiamo la nostra funzione ricorsiva, void, recursive. Qui passiamo la soluzione parziale e la soluzione migliore. Ok. Quindi, cosa dobbiamo fare? Iniziamo dalla parte più semplice, che è quella di creare una soluzione parziale. Quindi, come si fa a creare? Abbiamo detto che dobbiamo prendere un corso, controllare che l'id di questo corso sia maggiore dell'ultimo corso, dell'id dell'ultimo corso inserito e se questa condizione è soddisfatta, inserire questo corso in una soluzione parziale. Quindi, for corso corso in get tutti i corsi se, il primo caso è se la soluzione parziale è vuota, ovviamente devo inserirlo. Quindi, if soluzione parziale punto is empty di sicuro lo devo inserire. Ma non solo, anche se corso punto compare to di soluzione parziale punto get soluzione parziale punto size meno uno cosa significa questa istruzione? Se il corso se il codice del corso se l'identificativo del corso è maggiore rispetto al corso che si trova in ultima posizione nella soluzione parziale allora di nuovo posso inserire questo corso che sto considerando all'interno della soluzione parziale. Vi chiaro questa seconda parte a tutti quindi possiamo scrivere soluzione parziale punto add corso richiamare la funzione ricorsiva quindi recursive soluzione parziale soluzione migliore e poi infine fare la rimozione quindi il backtrack soluzione parziale punto remove corso diciamo che in questo caso non abbiamo particolari facciamo il controllo sui vincoli in questo if quindi prima di inserire un nuovo elemento all'interno della soluzione parziale controlliamo che abbia senso inserirlo e le condizioni di controllo sono due uno non esiste la soluzione parziale è vuota quindi se è vuota ovviamente dobbiamo provare a inserire un corso se invece è parzialmente piena quindi è già parzialmente riempita inseriamo un corso soltanto se è maggiore dell'ultimo inserito appunto perché vogliamo creare quelle sequenze di cui parlavamo prima ovviamente dobbiamo implementare il confronto all'interno della classe corso quindi dobbiamo andare in corso e dire che la classe corso implementa l'interfaccia comparable e in particolare accetta un oggetto di tipo corso semplicemente l'interfaccia comparable vuol dire che dobbiamo aggiungere il metodo compare to e cosa utilizziamo come come variabile per il confronto possiamo utilizzare il codice insegnamento quindi l'identificativo del corso l'identificativo del corso è una stringa quindi possiamo dire return dis.codice insegnamento dis.get codins quindi codice insegnamento codice insegnamento .compare to o .get codice insegnamento in realtà possiamo scrivere dis.codice .compare to o .get codins quindi confrontiamo due oggetti sulla base del codice insegnamento ovviamente qui se utilizziamo compare to restituisce un intero che può essere 0 se sono uguali 1 maggiore di 0 se il primo è maggiore del secondo minore di 0 se il primo è minore del secondo quindi dobbiamo aggiungere un maggiore di 0 perché noi lo vogliamo inserire soltanto se ha un identificativo che è maggiore rispetto all'ultimo elemento inserito quindi attualmente quello che fa questa funzione ricorsiva è semplicemente generare tutte le sequenze quelle che vi ho fatto vedere prima infatti se noi aggiungiamo una stampa all'inizio della funzione ricorsiva ricordatevi che se volete fare il debugging quindi se volete fare il debug di una funzione ricorsiva il mezzo più migliore è sempre stampare e aggiungere una stampa come prima istruzione all'interno della funzione ricorsiva perché la prima istruzione le prime istruzioni sono quelle che vengono eseguite sempre le prime istruzioni fuori dal for fuori da un blocco condizionale vengono eseguite sempre quindi è un ottimo sistema per fare del debugging quindi quello che possiamo fare è stampare la soluzione parziale quindi stampare la lista di corsi controlliamo cosa abbiamo detto di stampare come corso abbiamo detto di stampare il nome direi stampiamo il codice insegnamento perché è più compatto e quindi riusciamo a vedere meglio il risultato quindi model.get model.findminimalset aggiungiamo la chiamata alla funzione ricorsiva nel test model lanciamo il test model e vediamo che genera tutte le sequenze ordinate di corsi quindi l'algoritmo termina da solo in questo caso senza aver esplicitato una funzione di una condizione di terminazione e in particolare mi restituisce tutte le possibili sequenze allora ora dobbiamo soltanto verificare fin qui tutto chiaro quello che abbiamo fatto allora adesso dobbiamo verificare quali delle soluzioni parziali delle soluzioni trovate soddisfano il criterio che stiamo cercando sia trovare il set minimo quindi tra tutte le soluzioni parziali filtrare sulle soluzioni che permettono di coprire tutti gli studenti quindi l'insieme dei corsi che permette di coprire tutti gli studenti e tra quei corsi che permettono di raggiungere tutti gli studenti dobbiamo trovare quello che ha il numero minimo di corsi quindi una cosa che si può fare per verificare che i corsi all'interno della soluzione parziale coprono tutti gli studenti è sfruttare gli hash set ad esempio potremmo creare un hash set con tutti gli studenti registrati quindi con tutti gli studenti registrati all'università e poi andare a sottrarre a questo hash set gli studenti che seguono i corsi delle varie soluzioni che sono all'interno della soluzione parziale e verificare che alla fine questo set sia vuoto se è vuoto vuol dire che soddisfa il nostro criterio e a questo punto andiamo a impostarlo come soluzione andiamo ad aggiornare la soluzione migliore soltanto se il numero dei corsi è inferiore a quello della soluzione migliore corrente quindi cerchiamo di scrivere il codice che forse è più semplice creiamo un hash set di studenti hash set studenti uguale a new hash set lo importiamo e in particolare lo creiamo a partire da tutti gli studenti quindi get tutti studenti facendo così viene generata viene creata una collezione a partire da tutti gli studenti il metodo get tutti gli studenti li prende dal DAO a questo punto for corso corso quindi prendo tutti i corsi all'interno della soluzione parziale e per ciascun corso sottraggo dall'hash set studenti gli studenti iscritti a questo particolare corso quindi quindi soluzione parziale no scusate hash set studenti punto remove all corso punto get studenti quindi rimuovo dal set degli studenti quelli che sono iscritti a questo particolare corso della soluzione parziale alla fine di questo ciclo for mi chiedo l'hash set degli studenti è vuoto se è vuoto allora ha senso andare a vedere se posso aggiornare la soluzione la soluzione migliore altrimenti no altrimenti scarto continuo scarto la soluzione parziale corrente e continuo a generarne di nuove quindi se la soluzione migliore è vuota allora soluzione migliore add all soluzione parziale perché ovviamente se è vuota vuol dire che quella che fino ad ora non ho trovato nessuna soluzione candidata e quindi la prima soluzione che trovo la prima soluzione parziale che soddisfa il criterio dell'hash set è una soluzione candidata altrimenti se non è vuoto devo vedere if soluzione parziale punto size è minore rispetto a soluzione migliore punto size allora devo svuotare la soluzione migliore come facciamo sempre e aggiungere tutti gli elementi della soluzione parziale perché ovviamente se vi ricordate se facessi semplicemente soluzione migliore uguale soluzione parziale siccome soluzione parziale è semplicemente una collezione di puntatori alla fine la soluzione migliore verrebbe aggiornata ogni volta che la soluzione parziale viene aggiornata perché punterebbero la stessa area di memoria quindi è necessario duplicare i riferimenti quindi direi che con questo codice dovremmo essere in grado di trovare la soluzione migliore quindi il set minimo di corsi che permette di coprire tutti gli studenti proviamo ad eseguirlo per essere sicuri che funzioni ovviamente mi sono indicato di aggiungere la stampa della soluzione migliore nel test model direi che possiamo anche commentare questa istruzione che stampa tutte le soluzioni parziali quindi il problema sta girando e alla fine abbiamo trovato la sequenza di corsi il minimo set di corsi che promette di raggiungere tutti gli studenti ci sono delle domande? avete dubbi consigli perplessità? ok allora con questo esercizio abbiamo finito l'esame la prova d'esame dello scorso anno avete delle domande sui laboratori precedenti in generale sulla teoria su eserciziazioni simulazioni grafi eccetera dimmi una domanda se io dovesse usare i cognitivi di specchio per un grafo ok si lui prende come nel tuo struttore prende un simple grafo o un direct grafo non noi li possiamo passare un weighted grafo un attimo che controllo ok un directed o undirected se ci cambia un esercizio dove dobbiamo gestire un grafo pesato però ci serve è necessario utilizzare il connectivity di specchio come si fa ok per rispondere apri un attimo le slide sui grafi un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo Grazie. Io ho provato ad inizializzarlo come directed graph e poi ho creato un new directed weighted graph, però poi a me scompariva il metodo sent weight, sent edge weight. Sì, perché come vedi c'è una eredità tra le varie classi, perché queste qui sono le interfacce, che sono undirected, weighted e directed. Ad esempio, a seconda di come si definisce un grafo, ad esempio il weighted multigraph può essere sia definito come variabile dell'interfaccia weighted graph che sia come variabile dell'interfaccia undirected graph. Il problema è che a seconda dell'interfaccia che si utilizza, compaiono dei metodi differenti e questo ovviamente è uno svantaggio del fatto che ci sia questa ereditarietà multipla, cioè che derivi da diverse interfacce. Sì. Sì. Ok, però comunque non potevi utilizzare il connectivity. No, potevo utilizzare il connectivity perché prendeva anche quello che non propone. Ok, allora ti ha risposto il tuo compagno, sì. No, in effetti, perché se si definisce un grafo, quindi un oggetto, a partire dall'interfaccia, se si definisce la variabile a cui si assegna un oggetto, a partire dall'interfaccia, ovviamente su quella variabile è possibile chiamare soltanto i metodi di cui l'interfaccia. Però effettivamente se si utilizza invece la classe dell'oggetto stesso, si dovrebbe poter utilizzare entrambi i metodi. Esatto, perché implementa entrambe le interfacce. E quindi, siccome implementa entrambe le interfacce, molto probabilmente è possibile utilizzare il connectivity inspector, perché comunque lo vede come un'istanza di un oggetto che implementa quell'interfaccia. Quindi, così. Altre domande? Ok. Se non ne avete altre, mi ha detto il professor Corno che c'erano state un po' di difficoltà nell'ultima simulazione d'esame, anzi nell'unica simulazione d'esame che avete fatto finora, quella della scorsa settimana. Ed in particolare il problema era il seguente. Il problema era il seguente, ossia, mi diceva che qualcuno di voi aveva inserito due tipologie di oggetti relative ai team, quindi relative alle squadre, e utilizzava lo stesso oggetto, la stessa squadra, l'avevate inserita con due diversi oggetti, uno nel grafo e uno da qualche altra parte in una lista. E quindi poi salvavate metà delle informazioni da una parte, metà delle informazioni dall'altra e il programma non funzionava. Perché c'è il problema di mantenere l'integrità dei riferimenti. Adesso cerchiamo un attimo di riprendere questo problema che potrebbe essere utile anche per l'esame. Allora, il problema è legato all'ORM, quindi al pattern ORM. Ossia, quando si ha una classe, poniamo l'esempio più semplice, impiegato e dipartimento. Succede che all'interno del dipartimento si avrà una lista, con cui vogliamo avere una lista di impiegati. e all'interno della classe impiegato si vuole avere l'informazione sul dipartimento. E quindi si ha una relazione da uno a molti, per un dipartimento molti impiegati. E questo in SQL viene tipicamente implementato con una tabella impiegato, che contiene tutte le informazioni sull'impiegato, la tabella dipartimento. E poi c'è una tabella che associa un impiegato a un dipartimento. Il problema è che quando noi vogliamo portare tutto questo in Java, abbiamo detto che al posto che utilizzare gli ID, come si utilizzano in SQL, è molto più utile sfruttare i riferimenti. Quindi siccome gli oggetti in memoria in Java, una volta creati, hanno un indirizzo, se questo è l'IP, se questo è l'IP, una volta che crea un oggetto impiegato 1, questo avrà un determinato riferimento R1, posso sfruttare questo riferimento in più strutture dati, ma comunque so che usando questo riferimento l'oggetto è unico anche se viene salvato in parti diverse, in posti diversi. Quindi devo fare attenzione, quando voglio creare questa associazione tra impiegato e dipartimento, a non duplicare le informazioni, quindi a non fare ogni volta new, ma a cercare questo oggetto che ho già creato da qualche parte in una qualche struttura dati. Quindi un pattern che esiste in Java è quello che si chiama Identity Map. Nell'Identity Map, che dovrebbe avervi già spiegato il professor Corno, all'interno del model, si ha una mappa, che ad esempio associa un impiegato al suo ID. Poi si ha un esempio lista di impiegati, e questa lista di impiegati la prendiamo dal DAO, quindi semplicemente il DAO fa una query classica get tutti impiegati, e poi ci sarà un'altra lista di dipartimenti. Quindi all'inizio in questa query, in get tutti impiegati, non ci preoccupiamo di inserire all'interno dell'oggetto impiegato le informazioni sul dipartimento. E invece nella lista di dipartimento, nella lista di dipartimenti, possiamo fare una query, sempre generica per ottenere tutti i dipartimenti, però questa volta passiamo un parametro, che è quello della mappa degli impiegati. In questo modo è possibile, in una volta sola, sfruttare gli oggetti che sono già presenti in memoria, quindi questi oggetti qua, recuperarli tramite la mappa, quindi con un'operazione veloce o grande di 1, ed inserire il riferimento all'interno dei dipartimenti. Perché se invece noi creassimo un nuovo oggetto impiegato e lo inserissimo all'interno di dipartimento, duplicheremmo gli oggetti impiegati, quindi non avremmo più una sola lista di impiegati, ma avremmo più strutture dati che contengono gli impiegati, anche se gli oggetti sono equivalenti, perché magari l'hashcode di questi oggetti fa sì che due oggetti impiegati siano equivalenti, perché hanno lo stesso ID, sono due oggetti diversi, e quindi avranno altre variabili che potrebbero essere impostate diversamente a seconda dell'utilizzo dell'uno e dell'altro. E quindi quello che si ottiene alla fine sono due oggetti impiegati, che chiamiamo impiegato 1 e impiegato 2, che sono equivalenti per equals, ma in realtà per tutto il resto sono diversi. E quindi questo era il problema che si era generato nell'ultima simulazione, a quanto mi è stato raccontato, ossia che qualcuno di voi incautamente aveva inserito all'interno del grafo dei team A, B e C, e aveva creato quindi un grafo tra questi oggetti, e poi aveva creato un'altra lista di team e poi ad esempio lo score lo andava a impostare all'interno di questa lista, all'interno degli oggetti di questa seconda lista, però poi a un certo punto voleva recuperarlo utilizzando il grafo e quindi si chiedeva dammi l'oggetto incidente, dammi il vertice incidente a questo particolare arco, veniva restituito l'oggetto, però una volta preso, veniva chiesto lo score, lo score non era impostato perché lo score era impostato su quest'altro oggetto che estrae un'altra struttura dati. Quindi, com'è possibile risolvere questa situazione? Direi che ci sono due possibili soluzioni. La prima soluzione è quella di utilizzare una mappa. Una mappa che mette in associazione una squadra con il suo ID e quindi all'interno del grafo inserisco degli oggetti che sono quelli che prendo dalla mappa. Quindi, ad esempio, se il match mi dice che c'è stato un match tra l'ID della squadra A e l'ID della squadra B, sfrutto questi due ID per recuperare l'oggetto A e l'oggetto B e poi sono questi due oggetti che inserisco nel grafo A e B. E quindi, poi, utilizzo soltanto questi oggetti qua, quindi non ho altri oggetti salvati da nessun'altra parte, utilizzo questi oggetti qua del grafo per andare a salvare, ad esempio, le informazioni sullo score. La seconda possibilità, invece, è quella di avere sempre una mappa come prima, ma all'interno del grafo andare a salvare degli ID, quindi ID A e ID B. e poi, quando voglio salvare lo score, utilizzo questi ID per andare nella mia lista, nella mia mappa, anzi, nella mia mappa di oggetti, quindi utilizzo l'ID per recuperare l'oggetto A ed è in questo oggetto A che vado ad aggiornare lo score. Quindi il grafo è semplicemente un grafo di ID oppure di oggetti in cui viene impostato soltanto l'ID. Quindi, ci sono diverse soluzioni. Scegliete quella che preferite. L'idea è che però, in ogni momento, sappiate dove sono salvati i vostri oggetti. Quindi, quando scrivete il codice, pensate, ok, sto creando una nuova lista, una nuova struttura dati. Questa struttura dati, chi la conosce? se la metto nel model, a chi ha accesso? Sto creando degli oggetti duplicati? Sì, no? Quindi, pensate sempre quando create un programma cosa state facendo, dove vanno finire gli oggetti, chi ha la conoscenza di quegli oggetti, eccetera. Quindi, detta, dimmi? Ma c'è l'esempio di prima? Sì? Delle mappe degli impiegati degli impiegati perché abbiamo fatto sia una mappa che una lista di impiegati? Ma perché ho preso un esempio in cui serviva avere una lista e poi dopo serviva avere una lista di dipartimenti e poi volevo semplicemente sì, in realtà è inutile. Cioè, nel senso al metodo DAO per ottenere dipartimenti io gli passo la mappa come parametro gli passo la mappa degli impiegati? Allora, al metodo DAO gli passo la mappa degli impiegati però conta che questa mappa potrebbe essere così il strutturato il programma la lista contiene sì, ho capito sì, in effetti sono duplicati in questo caso la mappa e la lista sono due strutture dati duplicate e no, bastava la mappa non serviva la lista sì, perché tanto entrambe le strutture dati hanno i riferimenti agli oggetti che non sono salvati da strutture dati ma sono salvati da qualche altra parte Ah, c'è nel senso non è che facciamo riferimento solo ai riferimenti della mappa cioè perché mappa e lista hanno due riferimenti diversi Allora, l'oggetto mappa e l'oggetto lista sono in due parti differenti del leap ma gli oggetti all'interno della mappa e della lista quindi gli impiegati sono gli stessi mi spiego meglio in questa soluzione che avevo pensato c'erano due strutture dati c'era una lista e c'era una mappa mi sembra che anche abbiamo avuto un caso simile in uno degli scorsi esercizi forse in Bubs quindi entrambi hanno delle informazioni sugli impiegati quindi i1 i2 eccetera però non contengono ovviamente entrambe le strutture dati non contengono l'oggetto stesso ma contengono semplicemente un riferimento da qualche parte sull'ip dove c'è effettivamente l'oggetto i1 quindi la dimensione di questa casella è la dimensione di un riferimento non è dell'oggetto impiegato quindi sì sono due strutture dati che offrono prestazioni differenti per scopi differenti ma quello che ci interessa per mantenere l'integrità relazionale è la mappa la lista in questo caso è una struttura dati aggiuntiva è la mappa che mette che associa un ID all'oggetto vero e proprio comunque dopo questa spiegazione teorica vediamo nella pratica come si poteva risolvere questa simulazione d'esame quindi io inizierei dal DAO vediamo quali query abbiamo a disposizione poi saliamo nel model allora il 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 dataset era organizzato così c'erano tre tabelle una sulle stagioni una sui team e una sui match in realtà la tabella sia la stagione che la tabella team erano veramente semplici quella un pochino più corposa era la tabella match matches relativa alle partite infatti vedete che nella tabella matches abbiamo diversi campi nella tabella seasons semplicemente c'è un indicatore della stagione dove l'identificativo è l'anno in cui termina mentre nella descrizione c'è c'è una descrizione completa dell'anno quindi 2002-2003 nel primo caso e nel caso dei team è semplicemente una lista di team quindi estremamente semplice nel DAO ci sono tre query nella prima si ottiene la lista di tutte le stagioni quindi semplicemente viene istituita una lista con tutte le stagioni nulla di più nel secondo caso viene restituita una lista nella seconda query viene restituita una lista di team in questo particolare caso però non abbiamo solo una lista di team ma come parametro viene passata una mappa per creare quel pattern di cui vi parlavo ah scusate tra l'altro non ho cambiato non me l'avete detto non ho cambiato il codice non ho cambiato il monitor quindi nella seconda query viene istituita la lista di team nella lista di team oltre ad una lista di team viene istituita anche una mappa di team che serve per implementare quel pattern dell'identity map di cui vi parlavo prima quindi inserisco nella lista e poi inserisco nella mappa utilizzando l'identificativo in ultimo ho una lista di match che dove ho una query che mi restituisce la lista di tutti i match disponibili a questo a questo metodo però vengono passati diversi parametri che sono la season e una mappa la season serve per selezionare i match relativi a una determinata stagione quindi esempio relativi a stagione 2002 o 2003 invece la mappa serve per implementare la famosa relazione o il pattern o RM perché così metto in relazione i team con una con una partita e non creo nuovi oggetti team per quella specifica partita ma utilizzo degli oggetti che ho già creato precedentemente e li vado a recuperare dalla struttura dati che ho creato precedentemente utilizzandoli infatti vedete che creo un nuovo match inserendo l'identificativo di due oggetti il riferimento di due oggetti che prendo dalla mappa utilizzando get get e passo all'interno del metodo get la chiave che è una string che è long team e way team cioè il team che gioca in casa è quello che arriva da fuori quindi il DAO direi molto classico lista di tutti i team lista di tutte le stagioni e lista di tutti i match l'identity map è sui team il primo punto che cosa chiedeva il primo punto chiedeva selezionate una stagione creare un grafo che rappresenti i risultati delle partite giocate nella stagione selezionata dall'utente il grafo dovrà essere orientato e pesato con i vertici che rappresentano l'insieme delle squadre che ha giocato in quella stagione e gli arc che rappresentano l'isolato della partita il peso deve valere più 1 se il team A vince sul team B 0 se pareggiano o meno 1 se perde cerchiamo di capire bene questa consegna viene richiesto di creare un grafo orientato perché? perché se ho due team A e B e diciamo che A vince crea un arco tra A e B teoricamente sarebbe lo stesso creare un arco tra B ed A con peso meno 1 quindi sono equivalenti queste due rappresentazioni però attenzione non dobbiamo inserirlo due volte perché altrimenti sembrerebbe se facessimo così se inserissimo l'arco due volte significerebbe che A ha vinto due volte su B dimmi ma non è possibile cioè quando disse il professore aveva detto che l'arco va da B e il match viene installato in casa da A contro B esatto ma poi l'arco va da B ad A è possibile nel senso più 1 e meno 1 è possibile se A vince entrambe le volte ah sì sì ovviamente allora questa qui la terza è una situazione possibile però attenzione che quello che volevo semplicemente dire è che dato il singolo match va inserito un solo arco in una sola direzione quello che va da chi gioca in casa a chi gioca da fuori quindi ovviamente è orientato perché il fatto che sia orientato è importante perché mi dà la direzione della vincita comunque mi dice chi sta vincendo e chi sta prendendo perché se non avessi l'orientamento non potrei dire mettessi più 1 non potrei dire chi dei due ha vinto quindi il messaggio che volevo che passasse è che con un solo arco orientato e con un peso su questo arco si può dedurre chi ha vinto e sapere se ha vinto pareggiato o perso cliccando poi sul bottone carica partite quindi si creava il grafo e poi dopo bisognava restituire la classifica finale del campionato assegnando 3 punti alle vittorie 1 ai pareggi e 0 alle sconfitte quindi vediamo il codice nel model come il model gestisce queste varie richieste e la creazione del grafo allora nel model abbiamo due liste la lista dei team la lista delle season e la mappa dei team come mi chiedevi prima vedi che ci sono in questo caso due strutture dati cioè una mappa è una lista entrambe relative ai team a volte è utile averle entrambe perché in realtà servono a solo funzioni differenti in genere si utilizza la lista però la mappa permette di fare delle operazioni come quelle di ricerche di implementare il pattern identity map senza causare un overhead dal programma perché ovviamente si potrebbe evitare di utilizzare la mappa e fare una ricerca ogni volta sulla lista però è molto più lenta invece sfrutto la mappa e comunque ricordatevi che usare più strutture dati in cui salvare all'interno sempre gli stessi oggetti non comporta un dispegno di memoria eccessivo perché tanto gli oggetti vivono da qualche parte sul leap e quello che si salva è semplicemente il riferimento poi il graph è un simple directed weighted graph dove i vertici sono team e gli archi sono dei default weighted edge quindi gli archi pesati e poi abbiamo delle variabili utilizzate nella ricorsione ma ci interessano poi per il secondo punto questo è un pattern abbastanza utile nel model create quindi all'interno come variabili globali mettete delle variabili globali ma poi queste variabili globali le inizializzate nel costruttore del model quindi nel costruttore del model creo l'oggetto per accedere al DAO e inizializzo le strutture dati relative ai team e alle season quindi chiedo al DAO di restituirmi la lista di team la lista delle season e creo anche nel frattempo la mappa dei team perché la passo al DAO ed è il DAO che mi restituisce sia la lista di team che la mappa riempita poi semplicemente due getter per il team per le season e poi ho il mezzo carica partite che è quello che si occupa della creazione del grafo quindi creo semplicemente un simple directed weighted graph qui per errore viene di nuovo creata una variabile DAO in realtà ce l'avevo già inizializzata quindi non mi serviva e prendo la lista dei match quindi per ciascun match aggiungo la coppia di vertici di quel match quindi aggiungo il team che gioca in casa e l'altro tanto sapete che anche se provo ad aggiungere i duplicati non è possibile perché all'interno jgraph.t al suo interno utilizza il metodo equals per verificare che non sia già presente un oggetto di quel tipo nel grafo quindi anche se provate ad aggiungere i duplicati non verranno aggiunti quindi queste due istruzioni sono safe possiamo dire poi in base al risultato della partita settiamo un peso diverso all'arco nell'arco come facciamo a settare il peso utilizziamo ad edge width vertices che è un metodo di graphs grafs vi ricordate che grafs con la g maiuscola con la libreria che contiene tutte quelle funzioni di utilità per i grafici che sono abbastanza utili e permette in un solo colpo di aggiungere l'arco che collega i due team e il peso dell'arco altrimenti avremmo dovuto creare l'arco poi farcelo restituire e settare il peso su quell'arco e così abbiamo creato appunto il grafo il primo punto però chiedeva dopo aver creato il grafo restituiscimi la classifica a fine stagione dove si assegna più tre punti se c'è stata una vittoria o più uno se c'è stato un pareggio ci sono diverse soluzioni ci sono un paio di soluzioni una possibilità è quella di iterare sui vari archi quindi itero sui vari archi prendo i due vertici incidenti il vertice di origine e il vertice di destinazione che corrispondono al team che gioca in casa e all'altro che sono get team home e team away e poi prendo il peso in base al peso posso sapere chi dei due ha vinto quindi se è più uno vuol dire che il team che gioca in casa ha vinto e quindi associo a questo team più tre punti se è meno uno vuol dire che ha vinto l'altro team quello che è away se è zero devo assegnare più uno ad entrambi quindi ritornando all'esempio che avevo fatto itero su tutti gli archi ad esempio consideriamo questo caso qua itero su tutti gli archi in questo caso ho un arco che va da a a b a e om b e away quindi mettiamo il nero considero quest'arco qua a e om b e away e un più uno quindi vuol dire che a ha vinto su b e devo assegnare ad a più uguale tre come punteggio nel secondo caso invece considero quest'arco qui va da b ad a b e om a e away il peso è meno uno quindi vuol dire che a ha vinto su b e di nuovo assegno ad a uno score più uguale a tre quindi la prima soluzione la prima possibilità prevedeva di iterare sugli archi esiste anche un'altra possibilità che è quella di iterare sui vertici potrei infatti potrei iterare considero l'esempio a prendo gli archi uscenti no prendo tutti gli archi incidenti ad a sia quelli uscenti che quelli entranti itero su questi archi e vedo se c'è peso più uno per un arco uscente devo assegnare ad a più tre se c'è peso meno uno per un arco entrante devo assegnare ad a più tre se c'è un peso pari uguale a zero avevamo detto se era un pareggio sia entrante che uscente devo assegnare ad a uno score più uguale a uno quindi alla fine il concetto è lo stesso di prima però ho due possibilità o iterare sugli archi e quindi aggiornare contemporaneamente i punteggi dei due team A e B oppure iterare sugli archi a partire da un particolare vertice quindi itero sui vertici e poi sugli archi incidenti su quel particolare vertice e quindi aggiorno lo score di un team alla volta e alla fine mi chiedeva di restituire l'ordine della classifica in ordine discendente però di default l'ordine di java è ascendente quindi di nuovo due possibilità come implementare il sorting l'ordinamento o definisco un nuovo comparator dove il metodo compare mi ritorna il confronto con un meno davanti quindi questo vuol dire che gli elementi saranno ordinati in ordine discendente altrimenti posso utilizzare posso definire comparable posso dire che i team implementano l'interfaccia comparable e quindi implementano il metodo compare to e ritornano il classico confronto quindi integer punto compare tra i punti dell'oggetto stesso con i punti dell'altro oggetto team poi poi siccome voglio quindi l'ordinamento questo qui è quello naturale quello ascendente però siccome voglio l'ordinamento opposto posso nel model utilizzare collection punto sort comparator punto reverse order perché vengono definiti alcuni comparator di default come esempio reverse order che mi restituisce l'ordine opposto a quello naturale ve lo dico perché a volte può essere utile perché utilizzate l'ordinamento naturale quello definito all'interno dell'oggetto team e in altri casi avete bisogno di un ordine inverso e quindi semplicemente al posto che modificare all'interno dell'oggetto team l'ordinamento utilizzate il reverse order comparator punto reverse order ok ci sono domande su questa parte avete avuto difficoltà no direi che invece la seconda parte prevedeva un esercizio sulla ricorsione quindi quando l'utente seleziona la funzione domino occorre ricercare e stampare la sequenza di partite concatenate la più lunga sequenza di partite concatenate in cui ciascuna squadra sconfitta in una partita diviene vincitrice in una partita successiva ad esempio la sequenza potrà essere team AC K se è una partita team AC esudato vincitore il team A e nella partita team C team K risultato vincitore il team C suggerimento dal punto di vista del grafo occorre trovare un cammino aperto di lunghezza massima che attraversa unicamente archi con peso più 1 perché ci interessano soltanto le vincite le vittorie archi con peso 0 oppure meno 1 non devono essere considerati si noti che il cammino potrebbe non essere semplice cioè lo stesso vertice potrebbe comparire più volte in questo caso A ha vinto su B e su E ma ha perso su D in ogni caso ogni arco può essere utilizzato una sola volta ad esempio abbiamo potuto usare A E ma non sarebbe stato più lecito usare AB al termine della ricerca si stampi tale cammino quindi vediamo l'esempio che viene riportato qui cerchiamo di capire cosa bisogna fare in questo esempio in questo caso qui abbiamo AB BC non specifico più il peso perché tanto stiamo considerando solo più uno CD di A AE e F e quello che dice è che in questo caso A ha vinto su B e su E ma ha perso su D in ogni caso ogni arco può essere utilizzato una sola volta ad esempio abbiamo potuto usare AE ma non sarebbe stato più lecito utilizzare AB quindi quello che devo trovare è la sequenza più lunga il cammino più lungo di vittorie come si fa a trovare a risolvere questo esercizio è un esercizio sulla ricorsione quindi dobbiamo trovare le sequenze più lunghe che soddisfino un nostro criterio definito che soddisfino il criterio di essere la sequenza più lunga dobbiamo però come unico vincolo fare attenzione a non ripassare sugli archi che abbiamo già scelto quindi come facciamo a sapere quali sono gli archi che abbiamo già scelto dobbiamo mantenere traccia quindi dobbiamo mantenere un set di archi che abbiamo già scelto e un'altra particolarità è quella di dover far partire la ricorsione da ogni singolo vertice quindi dobbiamo non solo creare un algoritmo ricorsivo e farlo partire dal vertice A ma farlo anche partire dal vertice B perché non è detto che la sequenza più lunga parta per forza da A potrebbe partire da un altro vertice quindi una particolarità di alcuni esercizi è che molto spesso bisogna iterare su tutti i vertici e per ciascuno richiamare la funzione ricorsiva quindi far ripartire la funzione la ricorsione da punti diversi e tra tutte quante prendere la soluzione migliore quindi bisogna prendere la soluzione migliore all'interno della singola procedura ricorsiva della singola catena ricorsiva e poi prendere la soluzione migliore tra tutte le diverse chiamate ricorsive e alla fine restituire la migliore tra tutte quindi vediamo come è stato implementato nel codice allora abbiamo best dominio che è una struttura dati un array list che tiene traccia di quali sono i team della soluzione migliore abbiamo una struttura dati un hash set sugli edge che abbiamo utilizzato e poi abbiamo il path che è la soluzione parziale in questo particolare caso siccome in questo esercizio servono un sacco di vertici all'interno del grafo l'algoritmo ricorsivo non sarebbe mai terminato per cui in questo caso il professor Corno ha deciso di ridurre la dimensione del grafo a 8 e quindi ha creato un metodo per la riduzione dei vertici nel grafo dove semplicemente vengono selezionati tutti i vertici tranne 8 e vengono eliminati e quelli rimasti sono appunto quelli specificati quindi dim no di sicuro funzionava anche con molti più vertici però non 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 avrebbe terminato in un tempo congruo magari avrebbe non sarebbe arrivato a convergere con tutti i vertici con tutti i vertici vi riuscivate a farlo terminare o se è riuscito a potare l'albero della ricorsione in un modo particolarmente eccessivo no perché conta che siccome bisogna trovare un cammino non semplice quindi ipoteticamente la soluzione una soluzione ricorsiva è lunga tanto quanto tanto quanto è il numero di di archi nel grafo quindi se nel grafo ci sono un sacco di archi quindi un sacco di partite vinte ipoteticamente la soluzione ricorsiva potrebbe essere potrebbe avere l'albero di ricorsione potrebbe avere una profondità pari al numero di partite vinte poi magari non è così perché non ci sono delle connessioni magari si finisce in un punto morto però ipoteticamente la profondità è altissima in questo modo mettendo solo 8 vertici si limita la profondità massima al caso peggiore a 8 quindi si è sicuri che la ricorsione termina credo che sia difficile che termini con tutti i vertici quindi provo a riguardare il codice quindi come funziona la funzione ricorsiva iniziamo sempre dalla generazione di una nuova soluzione abbiamo scelto allora abbiamo scelto un team quindi un particolare vertice di partenza lo aggiungiamo alla soluzione parziale e diciamo che cominciamo la nostra ricerca della soluzione migliore a partire da questo particolare vertice ovviamente anche qui applichiamo una sorta di backtrack perché lo aggiungiamo chiamiamo la funzione ricorsiva e poi lo togliamo perché se non lo togliessimo vuol dire che man mano che andiamo avanti interandosi i vari team del vertex 7 creeremo una soluzione parziale con già dei team al suo interno invece voglio ogni volta partire con un solo team che è quello che sto considerando in quel specifico momento quindi occhio a questo doppio concetto di backtrack quindi scelto un vertice di partenza chiamo la funzione ricorsiva e chiedo trovami la soluzione migliore il miglior cammino a partire da questo vertice come faccio a partire dato un vertice devo selezionare devo prendere tutti i vertici in uscita da questo particolare tutti gli archi in uscita da questo particolare vertice scelto infatti itero sui default edge che sono quelli in uscita outgoing edges of t1 dove t1 è il team che ho scelto il team corrente e il primo passo è quello che ho scelto da cui iniziare ho scelto un arco come al solito devo chiedermi se posso aggiungere quest'arco alla soluzione parziale quindi ci sono due condizioni da verificare uno che sia relativo ad una partita vinta quindi che abbia peso pari a più 1 e il secondo che non sia ancora stato utilizzato quindi se queste condizioni sono soddisfatte posso come al solito aggiungerlo aggiungere non direttamente l'arco ma il vertice incidente quindi il vertice destinazione di questo il vertice target di questo arco posso aggiungere questo vertice alla soluzione parziale chiamare la funzione ricorsiva e poi rimuoverlo come ho detto però devo tenere anche traccia di quali sono gli archi che sto utilizzando in ciascun passo e per questo utilizzo una struttura dati un set un hash set che chiamo used edge quindi ogni volta che scelgo un arco inserisco il vertice di destinazione inserisco il vertice target nella soluzione parziale e poi inserisco l'arco tra quelli utilizzati finita la funzione ricorsiva rimuovo entrambi sia l'arco che l'ultimo vertice inserito in questo caso bisogna specificare una condizione di terminazione e come vi dicevo la condizione di terminazione è il numero di no in realtà non c'è una condizione di terminazione perché come prima termina da solo perché a un certo punto non sarà più possibile andare avanti si finirà in un vertice nel quale o non ci saranno archi uscenti oppure gli archi uscenti sono stati tutti utilizzati quindi quello che devo controllare ogni volta che entro in una funzione ricorsiva è se il path size cioè se la soluzione parziale corrente è migliore di quella della soluzione migliore se esiste dove il migliore è definito sulla dimensione quindi se la soluzione corrente è più lunga rispetto a quella migliore se è il migliore come al solito faccio clear add all di tutti gli oggetti della soluzione parziale un'altra cosa che si può fare è new array list di path dove path è la soluzione parziale però ricordatevi mai poi mai di non fare this.best uguale parziale perché altrimenti non funziona nulla e poi posso stampare la qui mi sentite semplicemente una stampa di debug per dire che si è trovata una nuova soluzione parziale migliore una nuova soluzione migliore quindi ricapitolando scelgo un vertice a partire da quel vertice prendo tutti gli archi uscenti per ciascun arco uscente controllo uno che sia relativo ad una partita vinta e due che non sia già stato utilizzato se soddisfa entrambi i criteri aggiungo il vertice target di questo arco che sto considerando alla soluzione parziale aggiungo l'arco al set degli archi utilizzati chiamo la funzione ricorsiva rimuovo l'arco dagli archi utilizzati e rimuovo l'ultimo edge rimuovo l'ultimo vertice inserito nella soluzione parziale quindi faccio backtrack ogni volta e con questo con questa con questa funzione già la condizione di terminazione è soddisfatta perché sono sicuro che a un certo punto terminerà perché o finisco in un in un vertice dove non ci sono più parite vinte o perché le parite vinte le ho già utilizzate tutte le parite vinte le ho già utilizzate sempre appena entro devo fare devo controllare se la soluzione corrente è migliore di quella precedentemente considerata migliore e in caso l'aggiorno ripeto tutta la procedura ricorsiva per ogni vertice del grafo questo perché perché immaginiamo di partire da B se fossi partito da B avrei considerato B C C D D A e poi quando ero in A potevo andare su E e poi su F oppure in alternativa sarei potuto andare su B però in entrambi i casi avrei trovato un cammino di lunghezza inferiore rispetto al cammino che avrei trovato se fossi partito da A perché invece partendo da A posso andare in B in C in D ritornare in A e poi in E e in F se invece da A fossi andato subito in E e in F avrei trovato un cammino ancora più corto per questo devo esplorare tutte le possibili soluzioni che ipoteticamente sono tantissime se il numero di vertici è alto per questo è stata fatta una patatura del grafo quindi avete domande su questa simulazione tutto chiaro ok allora domani di nuovo ci sarà in laboratorio un'altra simulazione quindi stesso pattern della scorsa volta 8 e mezza il primo turno fino alle 9 ci si sistema quindi se qualcuno sceglie il proprio computer alle 9 viene dato il link da cui scaricare il progetto e il tema d'esame poi provate a risolverlo tra le 9 e le 11 e ovviamente potete chiedermi se avete delle domande ma cercate di impostare il problema da soli buona serata arrivederci grazie 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 a tutti.